Ciao, ciao gente, ciao! Madonna, regà, che faccio di piccata che stiamo a fare stasenata, grazie! Oddio, io veramente non mi ricordo più come si fa questo quest'era. Allora, prima Luca ha iniziato a vedere che ha passato la quarantena in coppia, nessuno ha risposto, quindi immagino che tutti i partiti siete singoli e sono stati da soli. Però io ti ho detto che è una cosa importante, e compro gli occhi che una vostra è play, così. Mi fanno un applauso a tutte le persone che in quarantena non hanno scopato mai? Voi capite che non è bello applausire con così tanto entusiasmo a fare stasenata, ma per la terra già...